Allora, come tutti gli anni, per il 25 aprile, anche quest'anno c'è qualcuno che la butta in caciara, come si dice a Roma. Significa fare confusione, cambiare argomento. L'anno scorso era l'ex ministro degli interni Matteo Salvini che disse il 25 aprile ci saranno i cortei, i partigiani e i contropartigiani. Siamo nel 2019, mi interessa poco il derby fascisti comunisti, ex ministro Matteo Salvini. Ma il 25 aprile, caro ex ministro, non è il giorno del derby fascisti comunisti, non è il giorno nel quale si mettono tutte e due sullo stesso piano. Anzi, dei comunisti col 25 aprile non si parla proprio, mentre i fascisti si ricordano, ma non per celebrarli, bensì per condannarli. Quest'anno un altro rappresentante dell'estrema destra la butta in caciara in un'altra maniera, è Ignazio Benito Maria La Russa, che propone di celebrare i caduti di tutte le guerre, nessuna esclusa, e anche per questa specie di guerra sporca che stiamo combattendo contro il coronavirus. Salvini era il ministro degli interni. La Russa e il vicepresidente del Senato parlano come se fosse possibile per un rappresentante delle istituzioni ignorare completamente un argomento che riguarda non solamente la storia di questo paese, ma un giorno in particolare che è stato scelto ufficialmente come festa nazionale della Repubblica Italiana. È come se dicessimo che a Natale si ricorda la nascita di Gesù Cristo, ma visto che è stato partorito dalla Madonna, facciamo che è pure la festa della mamma, visto che c'è pure il bue e l'asinello, facciamo che è anche la sagra dello spezzatino. No. Ricordo a tutti quelli che hanno fatto confusione nel passato, a quelli che fanno confusione oggi e che faranno confusione nel futuro, che secondo l'enciclopedia Treccani, non il libretto rosso di Mao, no, secondo l'enciclopedia Treccani, il 25 aprile è la data assurda simbolicamente a festeggiare la resistenza e la liberazione. Ed è stato scelto quel giorno perché il 25 aprile del 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale dichiarò la fine della fase cospirativa e continua sempre da Treccani. Non deve dunque indurre a ritenere che i fatti bellici si esaurirono d'un colpo e gli animi esacerbati da 20 mesi di duro conflitto contro i tedeschi occupanti. 20 mesi di duro conflitto e da oltre vent'anni di dittatura fascista improvvisamente si placarono. No. Le operazioni militari si prolungarono infatti sino a maggio, già che si trattava di garantire la cessazione delle ostilità attraverso il rastrellamento e la cattura di piccoli gruppi di tedeschi sbandati e di fascisti intenzionati a dare vita a una forma di guerriglia alla quale erano stati chiamati da settori radicali del fascismo repubblicano. Scritto sulla Treccani. Dunque, caro, la russa col 25 aprile non si celebra la fine di tutte le guerre né della seconda né della prima né delle guerre coloniali né delle guerre puniche né delle guerre contro Asterix e Obelix non si celebra la fine di guerre stellari. Col 25 aprile del 1945 si conclude una fase della guerra di liberazione nazionale che gli italiani combatterono contro il nazifascismo, ossia contro i tedeschi e contro i fascisti che collaboravano con gli occupanti e collaboravano in maniera attiva torturando, saccheggiando e facendo stragi. Dunque, buon 25 aprile, viva la resistenza!